Chiara Marciani, Assessore regionale alla formazione e alle varie opportunità. Vedere oggi tante ragazze che con tanto entusiasmo hanno lavorato insieme, in gruppo e hanno anche utilizzato il digitale per portare avanti con tanto entusiasmo e passione il loro progetto è sicuramente stimolante, ma credo che sia ancora più importante sottolineare l'esempio che possono dare a loro coetane e anche ragazze più piccole per lavorare su quelle che sono le cosiddette professioni STEM e anche rispetto al digitale. La regione vuole dare il proprio sostegno rispetto a questi temi e incoraggiare questi progetti in modo tale che possano diventare non solo giornate importanti come quella di Napoli e di Salerno, ma magari diffonderle in maniera più ampia in tutta la regione.